Ciao a tutti ragazzi sono Alessandro De Prete e benvenuti in questo video Oggi voglio testare una cosa Un mio amico mi ha detto che hanno tolto l'online alla Playstation 3 GTA 5 online Alla Playstation 3 Ora vedremo se quello che è successo è vero Il mio amico ha avuto conferma dal sito Vediamo se è vero Grazie a tutti Per ora sta cricando ragazzi Vediamo un po' Perché di regola non dovrebbe andare Se a me funziona vuol dire Ragazzi funziona GTA 5 online è una bufala che l'hanno tolto alla Playstation 3 Funzione come? Sto giocando online Quindi è falso che l'hanno disattivato Funziona funziona ragazzi Beh ci vediamo al prossimo video Ciao bello